La scossa di terremoto che ha colpito l'area del Pollino è stata avvertita dalla Sicilia al Molise. Il maggior numero di segnalazioni arrivate all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV, proviene dal comune di Rende, in provincia di Cosenza, poi da Napoli e da Cosenza proprio. Le segnalazioni vengono raccolte tramite il sito internet Hai sentito il terremoto dell'INGV, nato per monitorare in tempo reale gli effetti dei terremoti italiani per informare la popolazione sull'attività sismica. La sua realizzazione è resa possibile grazie al contributo di ogni persona che compilando un questionario descrive la propria esperienza. Molte segnalazioni sono arrivate anche dal Salernitano e dalle aree di Potenza e Matera, ma il terremoto è stato avvertito dalla popolazione anche delle province di Catania e Messina fino a quella di Isernia e Campobasso, da dove arrivano anche diverse segnalazioni. Molti questionari sono stati inviati anche dalla provincia di Foggia, soprattutto dal Gargano. In Puglia il terremoto è stato avvertito fino a Lecce. Nel complesso è stato avvertito da parte della Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Molise. I dati dei questionari vengono utilizzati dall'INGV per compilare le mappe dei risentimenti dei terremoti e si aggiornano ogni volta che è compilato un nuovo questionario. Secondo una stima della protezione civile e delle autorità locali non ci sarebbe comunque alcun danno nelle aree campane, in particolare nel Salernitano, dove è stato avvertito più distintamente, e nella zona di Sapri, dove si era immaginato di chiudere le scuole.